Nessuno può immaginare quel che dico quando me ne sto in silenzio, chi vedo quando chiudo gli occhi, come vengo sospinta quando vengo sospinta, cosa cerco quando lascio libere le mie mani, nessuno, nessuno sa quando ho fame, quando parto, quando cammino e quando mi perdo e nessuno sa che per me andare è ritornare, è ritornare e indietreggiare che la mia debolezza è una maschera, la mia forza è una maschera e che quel che seguirà è una tempesta. Credono di sapere e io glielo lascio credere e avvengo. Credono che la mia libertà sia loro proprietà, ma io glielo lascio credere e avvengo. Lei era Giumana Datt.